La Commissione europea propone una stretta contro la pirateria online su scala commerciale di eventi sportivi ed altri eventi live come concerti e spettacoli teatrali. Autorità nazionali, titolari dei diritti e fornitori di servizi di intermediazione, sono invitati ad adottare misure efficaci, equilibrate ed adeguate nel rispetto dei diritti fondamentali. L'UE chiede anche agli organizzatori e alle emittenti di eventi sportivi e in diretta di favorire maggiormente la disponibilità e soprattutto l'accessibilità economica agli utenti finali.